allora ci ho donato cosa mi dice di bello si arrostisce si arrostisce tanto oggi ultima giornata di caccia e ci divertiamo così poca selvaggina ma divertimento è gratuito bravissimi e tu che ha vino e tu che ha visto a me è stata una bella giornata anche se non c'è il sole va bene uguale che ci riscarda un pochino dopo andiamo a pratamona e tu franco io sto divinamente bene alla grande compagnia amici alla grande carne di maiale ali di pollo e buccioli di vino ok arrivederci a presto